4 chiacchiere tra amici in 30 secondi Quanto vale il tuo tempo? Sì, sto chiedendo a te Sei mai chiesto quanto realmente vale ogni singolo secondo della tua giornata? A contarli sono 86.400 secondi Il più delle volte spesi male Il tempo è una di quelle cose che non puoi risparmiare Mettere dei soldi via quando ce ne sono di più risulta essere molto semplice Ma risparmiare del tempo è davvero impossibile Da quando ho iniziato a chiedermi in che modo posso spendere il mio tempo Mi sono accorto che ci sono infiniti modi di fare le cose in minor tempo possibile Uno dei migliori libri che ho letto si intitola Una sola cosa All'interno di questo libro il concetto è molto chiaro Tu puoi fare tante cose Ma solo poche ti portano l'80% dei risultati E ogni volta che scegli qualcosa su cui focalizzarti Stai escludendo tutto il resto L'idea del multitasking per noi esseri umani è qualcosa che non esiste Insomma, dopo aver letto questo libro Tre sono le cose che mi sono rimaste La prima è che se vuoi ottenere risultati Devi prendere l'unica cosa che davvero conta E devi scartare tutto il resto La seconda è che il focus non va perso Ogni volta che ci sono delle interruzioni su quello che stai facendo Ritornare a mettere l'attenzione su quello che avevi lasciato Diventa molto complicato La terza cosa che ho imparato è di dare valore al mio tempo E qua torniamo all'inizio della nostra ghiacchierata Spesso domando a me stesso se sto sprecando il mio tempo O se lo sto usando in maniera utile Quando mi accorgo che sto perdendo tempo E non sto realmente facendo quello che è davvero importante per me E per la mia famiglia mi fermo, rifletto e torno a mettere a fuoco Come avrei potuto ben capire Alla fine tutto si riduce ad una sola cosa da fare Spendi bene il tempo che ti è dato vivere Ciao